Vieni, vieni, sta per cominciare! Direttamente da Blogospace Summer, uno spazio tira l'altro, BISUMMER! Benvenuti a una nuova puntata di BISUMMER, oggi in esclusiva siamo qui ai mondiali antirazzisti, in occasione appunto dei mondiali antirazzisti ovviamente, e qui con Angela, ciao! Ciao! Che dovrai fare le interviste per noi appunto a Alfredo, ci racconterai poi com'è andata, diciamo che ci dovrai fare un po' da guida in questa nuova intervista, buona intervista! Ok, grazie! Allora, ti chiamiamo Alfredo Ragaini, salve! Allora, dunque, si è appena conclusa una conferenza qui ai mondiali antirazzisti, che era denominata Diritti dietro le sbarre, praticamente è stata organizzata dalla WISP, che è l'Unione Italiana per lo Sport per Tutti, in collaborazione con altre due associazioni, uno è il progetto ULTRA e un altro l'Istoreco, dunque si è parlato, insomma, di questi progetti che sono stati fatti dalla WISP per inserire anche l'attività sportiva all'interno delle carceri, e quindi lei è, diciamo, il... Ah, scusi, tu? Sei, insomma, il capo, diciamo, tra gli educatori all'interno del carcere, no? E quindi volevamo farti alcune domande. Dunque, si è detto all'inizio della conferenza che il rapporto tra l'opinione pubblica e le carceri è un rapporto molto difficile, e che è difficile, insomma, spiegare all'opinione pubblica quali sono, insomma, gli effetti positivi, perché poi escono sempre più quelli negativi, insomma, come lei ha detto all'inizio della conferenza. E quindi volevamo sapere, insomma, lei, in qualità di educatore, quali sono le attività che voi svolgete per inserire i ragazzi all'interno della società? Allora, dentro il carcere tentiamo di organizzare molte attività per fare in modo che i ragazzi facciano delle esperienze interessanti dentro, che spesso non hanno fatto fuori. Esperienze interessanti riguardo alla formazione, quindi tentiamo di organizzare la formazione professionale, ce l'abbiamo in alcuni settori, nella ristorazione, per esempio, nella costruzione della scenografia teatrale, la scuola e le attività sportive di cui oggi siamo qua e con la WISP abbiamo una convenzione. Quindi sono una serie di attività che non sono soltanto per far passare il tempo ai ragazzi e per non tenerli chiusi dentro in stanza, ma sono attività per tentare di far fare delle esperienze buone dove i ragazzi possono capire ed apprendere alcune cose che poi servono per costruire la vita fuori dal carcere e per non ritornare. Quindi il lavoro mio, per esempio, è di coordinare fra tutti i ragazzi l'inserimento nelle varie attività. Però certo, il luogo dell'educatore è quello di costruire il rapporto con il ragazzo, capire quali sono le sue problematiche e tentare di fare un progetto per il magistrato di ritorno o a casa o in comunità oppure nel luogo dove stava. Però questo non è tanto facile perché per fare questo ci vogliono delle risorse e le risorse per il carcere scarseggiano sempre di più perché il carcere è un luogo che non piace e si cerca di escluderlo il più possibile dalla vita della città. E questo quindi è un lavoro che la direzione del carcere tutti noi dobbiamo fare per riuscire a reperire risorse perché queste cose che dicevo prima si riescano a fare. Siccome si è parlato, insomma, la WISP è quella che in qualche modo è l'associazione che ha organizzato tutto questo, quale ruolo potrebbe avere lo sport, insomma, se lei pensa che sia una cosa efficace quella di inserire lo sport, qual è l'effetto che ha sui ragazzi, insomma? Lo sport pensiamo che abbia un grande spazio educativo dentro il carcere. Sono ragazzi più o meno della tua età, forse più giovani, da noi ci sono fino a 20 anni, ragazzi a 15 anni, a 20 anni e lo sport per i giovanotti è molto importante, ma soprattutto attraverso lo sport si può riuscire non solo a farli divertire e quindi questo già è importante dentro il carcere, ma anche a far passare alcune cose che sono importanti nella vita di ciascuno di noi, cioè imparare che mi devo relazionare con l'altro ma devo capire una regola comune, mi devo mettere d'accordo su delle regole per andare d'accordo con l'altro e quindi che se nello sport ci sono delle regole servono queste regole per riuscire a giocare tutti insieme, non giocare solo per conto mio e farmi le regole per conto mio. Quindi lo sport, che sia il calcio, il basket, la pallavolo, abbiamo sperimentato anche il rugby per esempio nel carcere, dove lì ci sono tantissime regole, bisogna riuscire a fare squadra, a lavorare in squadra, perché spesso i ragazzi collaborare con gli altri non è semplice, ci sono io e gli altri non mi interessa, invece di riuscire a capire che per raggiungere gli obiettivi devo riuscire a stare con gli altri e starci in modo positivo. Ma quindi è vero che i ragazzi parteciperanno a questi mondiali antirazzisti? Allora, i ragazzi partecipano intanto perché oggi, mentre noi parliamo, c'è una squadra collegata con i mondiali che gioca con i ragazzi dentro, domani speriamo di averne un'altra che gioca con i ragazzi dentro, così come per domani e dopo domani abbiamo richiesto al magistrato per i ragazzi che sono in una posizione giuridica particolare di poter uscire tre ore per venire a... noi ci siamo iscritti regolarmente al torneo con la squadra Pratello e quindi due ragazzi domani e tre sabato mattina insieme ad operatori, operatori WISP, noi educatori, devono partecipare. Il permesso ancora non era arrivato, speriamo di averlo domani mattina in modo che domani pomeriggio e sabato mattina possano giocare. Allora in bocca al lupo, grazie. Grazie, ciao. E ora passo la parola a Alessio Zagari. Grazie per la linea. Siamo qui con i ragazzi di Frequenza Pennino che hanno un programma, uno spazio diciamo, grazie a Asterisco Radio in cui nel pomeriggio dalle 3 alle 4 ha conducito appunto un programma. Insieme al Blogos. Insieme al Blogos. Ciao Alessio. Ciao. Ciao Blogos. Ciao. 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 E niente, ci volete già dire che avete intervistato, che avete intenzione di intervistare? Com'è andata la prima diretta? Guarda, la prima diretta che in realtà è la seconda, prendo il microfono, è andata molto bene. Noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno, lo sapete che siamo molto giovani, abbiamo questo spazio dalle 15 alle 16 in diretta che ci è stato offerto da Asterisco Radio ma che si può ascoltare anche su FrequenzaPennino.com in collaborazione con il Blogos, questo bisogna dirlo, che ci ha aiutato molto. Oggi c'è stata la seconda puntata che è andata molto bene, abbiamo avuto ospiti nella giornata di ieri Andrea Dal Pian che è stato un regista documentarista che ha presentato ieri sera il suo documentario, abbiamo avuto anche il cantante di Los Fastidios, abbiamo avuto un'attrice e invece nella giornata di oggi abbiamo avuto, ce lo racconta Ilaria. No, nella giornata di oggi abbiamo avuto Andrea di Emergency che ci ha un po' illustrato comunque la loro presenza durante i mondiali antirazzisti e in generale comunque i progetti che stanno portando avanti. Poi abbiamo intervistato uno dei ragazzi che segue Iout Point che è questo spazio appunto nello spazio Karakuta, un angolo in cui i giovani possano incontrarsi per stare insieme e nei momenti morti tra una partita e l'altra. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato tutte le squadre, importantissimo, abbiamo presentato le squadre che partecipano quest'anno ai mondiali antirazzisti. Esattamente. E niente. A voi di Frequenza Appennino ce l'avete una squadra oppure siete venuti qua senza? Sì? Dite pure chi sono. Siamo senza squadra, ufficialmente Frequenza Appennino non ha una squadra, l'anno prossimo forse chissà ne avremo qualcuna, forse sì però bisogna vedere se abbiamo il numero legale. Dei concorrenti? Puoi fare un reclamo insomma per dire venite a giocare. Sì ragazzi venite che vi insegniamo qualcosa di montaggio e produzione. Ma dicevo per giocare. Però li sfruttiamo anche come redazione ormai che ci siamo. Mentre invece il Blogos ho sentito che ha due squadre quest'anno. Esattamente. Il Dub FC e il Real Blogos. Che finora una ha perso e l'altra ha vinto. Beh quindi statisticamente non avete fatto niente. Statisticamente non avete fatto niente. Una ha vinto, una ha vinto, statisticamente avete pareggiato. Vabbè evitiamo che abbiamo pareggiato anche se in realtà non è proprio così. E niente, è la prima volta che venite qui al mondiali antirazzisti? Come vi è sembrato? No, io sono sempre venuto come visitatore diciamo così. La prima volta che vengo come facente parte dello staff fra virgolette. No, quest'anno mi sembra che ci sia una grande partecipazione al pari dell'anno scorso. Speriamo che il sole rimanga per tutta la durata dei mondiali. Però sì no, mi sembra che la partecipazione sia abbastanza importante. E anche l'umore, l'allegria è quella classica dei mondiali antirazzisti. Anzi forse qualcosa un po' di più. Mentre per te è la prima volta che vieni? No, anche io vabbè sempre come partecipante esterna. Sì, io oltretutto sono qua anche come cooperativa RUPE per cui portiamo una squadra che è l'Appennino FC. Può essere trasversale anche di radiofrequenza Appennino ma trasversale. Esatto, abbiamo sempre richiamato quello. E poi c'è un'altra squadra invece seguita sempre dalla RUPE che è Dinamo Papinski. Quindi seguiamo anche un po' queste squadre. Però così è dall'interno sia primo anno anch'io. E a te Mont? La cosa bella è che è molto varia nel suo genere. Quindi comunque racchiude varie realtà. Chi è che deve parlare? Puoi trovare persone di varie etnie, di tutte le nazionalità. Comunque è uno scambio, ecco. Sennò sarebbe difficile farlo antirazzista se fossero tutti... Bravo, bravo, ho incoronato ragazzi. Va bene, dai, ringraziamo. Ringraziamo quindi i ragazzi di Frequenza Appennino e buone dirette. Buone dirette insieme. Buone dirette insieme. Bentornati qui a B-Summer, puntata speciale in cui... Mi stai inquadrando, sì. Puntata speciale in cui non verrà trasmessa la musica per problemi diciamo tecnici. Siamo qui ad intervistare Andrea Lorenzini che è un esponente di Emergency, diciamo... Un volontario del gruppo Emergency di Bologna. Ok, che Giulio ha già intervistato per noi. Ciao Giulio. Sì, ciao a tutti. Sì, l'abbiamo intervistato per B-Summer, adesso intervistiamo per B-Summer. Per Frequenza Appennino, Frequenza Appennino Corner, in diretta ogni giorno durante questa manifestazione dalle 15 alle 16 da Asterisco Radio, lì, lo spazio Calacuta. Niente, vogliamo rinnovare questo invito e volevo che tu parlassi dei vostri impegni recenti. Cosa avete fatto ultimamente? I impegni recenti? Sì. Ti intendi dopo il pomeriggio molto intenso alle 16, le due partite? No, un po' prima. Come Emergency. Va bene. Come Emergency Milano, non so se conoscete l'associazione, l'associazione opera a livello internazionale, ha sede a Milano e gruppi in tutta Italia. Le due cose più recenti che abbiamo fatto sono l'apertura di questo centro a Niala, che ha cominciato a operare da un paio di giorni. In più abbiamo questa iniziativa adesso con l'Inter, la squadra di calcio e l'Inter nazionale, che avendo vinto la Coppa dei Campioni permette di farsi fotografie con la Coppa a Milano con una piccola donazione che verrà utilizzata per aprire un centro in Repubblica Democratica del Congo. E quindi queste due iniziative sono le più aggiornate. Sì, queste foto con l'Inter le potete fare fino al 21 maggio e questo è il centro a Niala che ha appena aperto. Trovate le informazioni sul sito www.emergency.it oppure su Peace Reporter, che è una rivista che ci è molto cara. Appunto, ricordiamo l'impegno di Emergency nei territori difficili, nei territori di guerra. Spesso e volentieri, negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di diritti non negati, specie in Libia, profughi che vengono dall'Africa e che non hanno la possibilità di far sentire la propria voce purtroppo. tante persone, tanti morti senza identità. Volevamo parlare anche di questo, che è stato illustrato da quel documentario come un uomo sulla terra, è stato posto all'attenzione mediale. L'Emergency si è occupata anche di questo, di recente? Sì, diciamo non nello specifico, nel senso che noi come associazione a livello di progetti ci occupiamo soprattutto di assistenza alle vittime di guerra, quindi inizialmente feriti da mina e poi anche vittime appunto della guerra e della povertà più in generale, quindi anche, non so, il centro di cardiochirurgia o pediatrico in Sudan, la cardiochirurgia, pediatrico in Sierra Leone, eccetera. Quindi non è che specificamente ci occupiamo di queste situazioni, però in questo momento è un argomento che sentiamo molto vicino, a parte le tristi notizie di attualità, quindi Eritrei in Libia, eccetera, penso che abbiate tutti letto i giornali in questi giorni, e anche se non è stata coperta moltissimo come notizia mediaticamente, però qualcosina è iniziato a muoversi, e poi abbiamo questo poliambulatorio di assistenza ai migranti a Palermo, e ne stiamo aprendo un altro in Veneto, aprirà probabilmente a settembre. Purtroppo l'antirazzismo, i diritti, la medicina gratuita e libera, l'assistenza gratuita, è una cosa che ci troviamo a dover ribadire anche in Italia, al giorno d'oggi purtroppo, non sono più diritti scontati, e Emergency si è impegnata anche a questo livello, nel corso di quest'anno abbiamo aderito alla manifestazione del primo marzo, sul razzismo, e comunque siamo in contatto con Fortress Europe, che è questo sito che aggiorna costantemente su quelli che sono proprio veri e propri omicidi nei confronti di persone che cercano di arrivare nel nostro paese. Io volevo sapere qualcosa di più specifico su di te, su come hai cominciato, chi ti ha coinvolto, insomma, sei viaggiato, dove sei stato, quali sono le esperienze che ti porti dietro, insomma. Dunque, come ho cominciato io come volontario? Sì. Dunque, io ho seguito Emergency da esterno, penso sia stato il percorso di tanti, in realtà, all'interno dell'associazione, nel senso che... A che età hai incominciato? Nel 2001-2002 ho cominciato a seguire le prime notizie dell'attività, nel senso a leggere i giornali, informarmi, eccetera. Mi capitava, così, leggendo articoli, o anche a volte fermandomi ai banchetti, così di venire a contatto con le attività dell'associazione. Poi nello specifico, nel 2004-2005, con la mia ragazza di allora, che abitava in provincia di Monza, ho fatto qualche attività con il gruppo di Abrianza. Una volta passato qui a Bologna, diciamo, mi sono avvicinato al gruppo di Bologna, nel 2005-2006, che è molto diverso come organizzazione, molto più numeroso, e lì mi sono trovato davvero molto bene, mi sono fermato, diciamo. E poi, sì, diciamo, è stato un lungo percorso, dall'informazione, magari leggi qualcosa che ti interessa, o che ritieni giusto, dici, ah beh, però, belle queste cose, brave queste persone, e poi magari, sai, all'inizio hai anche qualche dubbio, vedendola dall'esterno, ma sarà vero tutto quello che leggo, mi sembra troppo bella sta cosa. A volte sentivo raccontare, quando alcuni di Emergency parlano all'estero, presentano questa associazione italiana, a un tedesco, a un francese, la prima, di solito, la prima reazione di pancia è, ma mi stai raccontando delle scemenze, questa è la solita cosa che inventano gli italiani, è assolutamente falsa, poi magari i soldi vengono intascati tutti, io vado lì, e anziché all'ospedale trovo una cosa di cartone finta, dove avete fatto delle foto finte, e cose di questo genere. In realtà, poi, avvicinandomi alle attività dell'associazione, a poco a poco, Formichina, è una cosa gestita anche quasi a livello familiare, nonostante le dimensioni, e mi è piaciuta molto, questa attenzione appunto ai fatti, alle cose concrete, poche chiacchiere e cose molto tangibili, muri di ospedali, diciamo, in un certo senso. Quindi tu hai viaggiato anche all'estero, quindi? Ho viaggiato, per i fatti miei, perché faccio l'interprete traduttore, non con emergency, anche perché l'attività di volontariato in Italia è abbastanza distinta. In realtà all'estero vanno persone che lavorano in campo medico, quindi infermieri o medici, proprio nello specifico, e sono di solito pagate. Cioè, chiaramente fanno periodi di sei mesi, di un anno, eccetera, però stipendiati, perché operano nei nostri ospedali. E mentre il personale, non so, magari che pulisce l'ospedale, o gli interpreti, cerchiamo di prenderlo sul posto, perché comunque permette anche alle persone sul posto di avere uno stipendio, sostenere una famiglia, eccetera. Sono comunque paesi in guerra, a volte tipo l'Afghanistan in guerra da 30 anni, quindi è bello comunque che qualcuno possa contare su uno stipendio, visto che può fornire quel servizio. Invece i volontari italiani non sono mai pagati, quando li vedete ai banchetti, sono sempre persone che danno il loro tempo a titolo gratuito, anzi, a volte pagano la benzina per andare lì, e è comunque appunto un'attività informativa che si esplicita nel banchettino, nel concerto, nelle scuole, però appunto è una cosa che possono dare tutti, e quindi sono persone di estrazione diversa, con professioni diversissime, età diversissima, e questo è anche bello, perché appunto mi è capitato di venire a contatto con un gruppo numeroso di esperienze disparate, diciamo, quindi hai proprio la persona che non ha la tua età, che non ha la tua stessa estrazione sociale, che magari ha viaggiato in paesi diversi, anche a livello di scambio, di crescita, è stato interessante. Concludendo con argomenti un po' più leggeri, oppure volevi fare una domanda, no? Mondiali antirazzisti, ovviamente voi avete una squadra, com'è andata la prima partita? Molto bene, infatti sembra che sia entrato nella doccia vestito, no scherzo, e abbiamo vinto, sono stupefatto di questa cosa, perché noi siamo una specie di armata branca leone, nel senso così, bambini, animali, donne, ma non sanno giocare a calcio, scherzo, cosa non da dire, esatto, era assolutamente tagliato, il Mondiali antirazzisti, no in realtà, era affettuoso, noi siamo contentissimi delle nostre straordinarie donne, ne ho una qui, che non vuole entrare in video, ma facciamo finta che ci sia, sta facendo fare un servizio da fotomodella, ma niente, abbiamo vinto, fondamentalmente perché gli altri erano più branca leone di noi, però questa cosa ci piace molto, il Mondiali appunto è un momento in cui l'antirazzismo in Italia purtroppo va ribadito, secondo me, questa è anche una festa, sport, gioco, concerti, bevute, quindi queste due cose messe assieme sono molto belle, infatti anche quando siamo trovati a fare lo striscione che vedete qua sopra, abbiamo cercato di divertirci più che di dare chissà quale messaggio impegnato e ci sembra molto simpatico unire le due cose perché questa è una manifestazione di dimensioni notevoli, 204 squadre, migliaia di persone qua in giro, quindi sono stati molto contenti. Beh, allora ti ringraziamo. grazie Andrea per essere stato con noi e speriamo che possa proseguire l'attività di emergency all'estero nei territori difficili e speriamo che molte barriere vengano così superate come in questo splendido spazio che ci ospita succede, insomma. Grazie di nuovo. Prima di salutare ricordiamo che sabato emergency farà una serata al Blogos di Casalecchio. Giusto, giustissimo, scusate, l'ho completamente dimenticato, sono cotto dopo la partita. Sabato, 10 luglio, abbiamo questa serata al Blogos dove un nostro volontario presenterà brevemente il nostro progetto di Goderich, centro pediatrico in Sierra Leone che viene sostenuto dai fondi raccolti dal gruppo di Bologna e dopodiché ci sarà un concerto dei Freaky Style Band che è una cover band dei Red Hot Chili Peppers e assolutamente gratuito quindi venite, sarà una serata carina, poi il blog sarà uno spazio così all'aperto quindi appunto un bel clima si sta proprio bene. Speriamo di vedervi. Ti ringraziamo definitivamente a sto giro. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Grazie per la visione!